Siamo tutti venuti in questo nuovo video, sapete che la luce strana si ha scambiato alla luce del ring, per provare a vedere come si vede questa, è un po' più light, perché sicuramente mi spara la flesceva negli occhi l'altra, quindi proviamo con questa, come sempre sono in pigiama, scusatemi se sono in pigiama, mi sono da poco svegliata, quindi ho deciso di girare un video con il mio protetivo sfondo, un po' zebrato, no, maculato, perché zebrato, se sono in corio niente. Allora, procediamo con il video, anche perché il ventilatore è al di fuori della tenda, quindi se vedete che si muove è normale, non c'è uno spirito, è per quello che ho caldo. In questo video, di cosa parlerei? Allora, ho fatto dei mini acquisti, ecco, mi chiamalo così, allora, volevo mostrarveli, sinceramente preferivo acquistare più robe, per vedere un unico unboxing, un unico video haul, non so come lo chiamerò questo video, di shopping, ecco, però purtroppo ho scarse, diciamo, finanze, ecco, ultima cosa. Vi farò vedere, allora, tutto ciò che ho preso l'ho preso nel centro commerciale di Mondo Juve, che c'è qua, appunto, a Torino, a Michelina sarebbe, e visto che appunto mi mancano parecchie cose a vestire, perché ho fatto il cambio d'armadio, quest'anno non l'ho fatto vedere, perché era un macello, mi è andato anche il mio ragazzo a farlo, è un macello, non so più dove mettere la roba, devo ancora lavarla, poi dicevo, una pila di roba, là, per questo cosa nasconde tutto, sono sparato, stanno sparando il fuoco di attivicio, vabbè, non so per quale motivo, perché in questo momento è sera, sì, non è giorno, comunque, se mi chiedete perché prima stavo dormendo, perché non ho dormito un cazzo stanotte, e quindi stavo dormendo, perché volevo recuperare qualche ora di sonno, ed è oggi domenica, perfetto, dopo aver fatto questo rassunto, possiamo partire con il mio video. Allora, ho acquistato da Alcott, vi spogliolo già, il negozio che ci sono appunto a Mundo Juve, questa bellissima maglia, che è nel reparto, lo trovata nel reparto un uomo, le tassili, però è bellissima ragazzi, veramente bella, e, prima di un vestito, ho preso una taglia in più, apposta perché appunto mi fa da vestito, la metto sui leggings, ed è fatta di questo blu, poi vi farò vedere magari delle foto, la metto su Instagram, per vedere l'outfit che vorrò fare con questa voglia, ci sono anche di tantissimi anticolori, e adesso c'è l'offerta, qui va Alcott, l'ho pagata a 4,95 euro, se ne comprate 3, praticamente la terza meno cara la pagate, se non sbaglio, tipo il 50% in meno, quello che ho capito, l'offerta è quella, il terzo cavolo pagate il 50% in meno, quindi io tornerò, me le comprerò, rossa, rosso scuro, rosso scuro, nera sicuramente, poi dovrebbe essere ci sono altri colori, ma sicuramente le prendono, perché, voi dite Sara, ma ormai non è più estate, perché ti compri le maglie a maniche corte, non ho problemi psichiatrici, ma è sufficiente di mille sastrati, e anche perché le trovo molto comode, e anche per stare in casa, perché comunque magari non ci sono 2.000 gradi, non compro sempre maglie pesantissime, e questa va appunto, la posso riutilizzare poi quando tornerà la primavera, non si sa in quale anno, e quindi ovviamente inizierò una lavata, dopo perciò il suo etichetto. 4.000 euro appunto ne ho, 4.000 euro sono già perse, ne ho pagato appunto, 4.95, no 5 euro, e ne prenderò appunto, praticamente l'altra che prenderò poi, l'altra che prenderò poi, l'altra che prenderò 3, l'altra pagherò più prete 2.50, 2 euro o qualcosa. L'altro acquisto che ho fatto, invece, l'ho fatto all'interno del Benet, sicuramente, adesso devo fare, l'altra pagherà, la ne mettevo dall'altra busta, devo lavare tutto. Questa era già imbalsamata, ma io l'ho tolta per provarla, a caso, si sa mai che mi scambiano le taglie, ed è una felpa, in pile, per essere l'invece invernale, rigorosamente blu, lo prezzo dentro il Benet, sempre di mondo Juve, si capiscono qual è l'inizio di questa felpa, ed è fatta così, ovviamente, con la zip. Anche questo è una taglia in più, perché, ripeto, mi vesto come pupazzine, cioè mi vesto come a strati, quindi è raro che mi vediate con una maglia gigante che, non so, tipo, le bianche che uso sono quelle in sciniglia, però le uso, se devo stare, tipo, in via Roma, tutto il tempo, se andate in città commerciale, spesso devi spogliarti, perché sono sudi, e quindi io ho preso questa, che, appunto, è bellissima, ragazzi. Rigolosamente anche questa è da gomo, però è in pile, è calda, rimane lunga, come sui leggings, è bellissima, ovviamente, anche se non le metto due insieme, per sembrare un puffo gigante, ovviamente, lo stesso. E questa qua, se non sbaglio, mio padre l'ha pagata, mio padre, perché dico che no, perché non io, ed è la Carrera, tra l'altro, anche, non ne manco, è una marca di, color blu, è bello, grazie. Soprattutto l'ho pagata sui 8 euro, qualcosa, quindi ci ha fatto 9 euro, è un cavolo, era la mia offerta, infatti l'ho provata, è un XL, ripeto, però l'ho presa, appunto, un po' più grande, così sotto ci posso mettere le cose. Vediamo qua dentro. e entra nella busta. Non so perché la roba, come anche della mia vostra, quando esce da una cosa, non ci rientra più. È il mister delle cose che prendono volume. Voilà. Questa la ratterrò, perché può servirmi, non può ancora per cosa, ma per metterci le cose dentro. Oggi posso fuocare qualcuno, non so, ovviamente, però. Ci ho tolto anche lo scotch che c'era, la potrò magari, per metterci qualcosa. Io quello la prendo. Se le dite i voti sottofondo, è mia madre che fa la da scuola. Non posso sgonfiare la carta? Ok. Questi qua sono stati gli unici, o questi che ho fatto. Vedo, il budget era basso, però, più là, magari, comprerò qualcos'altro. e, ecco, adesso qua, quello che ho, comodo, Total Bloom. Potete fare il mio shopping, Total Bloom. Un'altra cosa che ho preso, però non ho speso nulla, che potete scaricarvi l'app di Freeprint, Freeprint, Freeprint. Ho sentito un tuono? Non so se sentite. Il tuono è un lampo fortissimo. Pioverà. Continua a tuonare. Ecco, cosa mi vuole vedere, è una cosa bellissima, non so se la vedrete bene, ma io ve la mostro. Guardatela, vedo se ve la mostro. Guarda che bello. ho fatto questo collage di foto, grazie appunto all'app di Freeprint, scusatevi, devo abbassare solo il bracciettino, oh, vabbè, rimarrà così. L'ho fatto appunto con un'foto che già avevo, e quelle foto le ho scaricate, le ho scaricate sull'app Freeprint, che dovrei avere la busta a qualche parte, non ce l'aveva bene. Con questa setta di Freeprint, è un'app con una farfallina, e praticamente vi da, quindi vi da praticamente un sacco di stampe gratis, e le prime dieci sono veramente proprio gratis, nel senso che non pagate nemmeno le spese di spedizione. Dopo le prime dieci, invece pagate solo la spese di consegna, e io l'ho fatta appunto con le spese di dieci. D'altro le avevo già, ho fatto tutto questo, tutto questa cosa qua. Devo poi ridipingere i muri, penso che ne farò altri, penso che comunque pagate solo le spese di spedizione, pensavo poi di fare altri collage, di foto. Io vi saluto, spero che questo è domenica sia, però ci vediamo alla prossima. Ciao!